Tutto l'ora, qua che è mogliotti e radici, le mie salate, le radici, l'olè là di Cassia, è andata all'Italia, no? Sono andato una volta a Rovigo, Porto Viro, per fare un lanciamento, un lancio di un libretto di storia a fumetti, Demo Via, Demo Via, la storia dell'immigrazione italiana in fumetti. E oggi, qui, in Flores da Cugna, sono per fare il lancio di questo, un altro libretto, Raditi, che è un personaggio italiano che abita a Brasile, un ciuchetton, non voglia tanto lavorare, però hai una moglie molto arrabbiata che botta il nostrilio, come si dice, nel treno, la Genoveppa. Questo è il mio libro, Raditi, siamo qua in la vera del libro, festeggiando anche l'immigrazione italiana. Giusto? 140 anni, completiamo, e Nova Trento, 91 anni del municipio. Sì, siamo vecchi, però siamo giovani. Siamo più giovani che il municipio, no? È giusto, giusto come un codo. Siamo qua contenti perché è una festa, dove hai italiano, dove hai libro, dove hai vino, hai festa. Giusto, Raditi, allora, qua con altri, qua in Nova Trento, della Fera del Libro e della Filò qua in piazza, no? Bravo. Certo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai che fai, Adria. Ottava Fera del Libro, il soddisfatto è triplico. Primero, metto qui, in questa festa. Secondo, voi stanno facendo questa festa del municipio. E il terzo motivo della mia soddisfazione è che la mia moglie, la Genoveva, non veniva. Ah, sto soltino che ne erano. Ma non si preoccupi, gli uomini che vengono con le donne, con le donne, con le donne, con le donne, non si preoccupi. Io sono tipo javali, fuso, fuso, estrago la lavora, ma non como nada. Ah, non si preoccupi. Grazie. 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 Grazie.